Ciao a tutti e bentornati a Dovera Gondor, il canale YouTube dedicato al Signore di LLCG e ad Arcamorror LLCG. Continuiamo la nostra progression seconda era con il solito mazzo che ci ha accompagnato nelle ultime partite e andremo a giocare Fuga da Monte Graham. Per chi ha visto anche la modalità campagna, insomma, sa com'è andata, chi invece segue solo questa rubrica vedremo come andrà. Vi ricordo se vi piace il canale di iscrivervi che aiutate il canale a crescere. Allora, andiamo a caricare la quest che appunto è Fuga da Monte Graham. Ok. Poi andiamo a fare Special Function Enscape from Monte Graham e sostanzialmente mi è già fatto tutto il setup, che vuol dire quello di partire con tre carte e così via, no? Qua dice ogni giocatore aggiunge due risorse al suo eroe, se mette la sua minaccia al valore di quell'eroe, quindi non è 29 ma è 9 in realtà. Mettiamo da parte il cancello su The Gornak, il mazzo degli incontri degli orchi, peschiamo una nuova mano di tre carte, creiamo la nostra area di allestimento e avanziamo a uno stadio 2A, cattura 7. Quindi, allora, a questo punto, per la cattura 7, noi dobbiamo andare nel player 1 deck 2, sì, corretto, e facciamo, diamo, dobbiamo prendere cattura 7, quindi facciamo qui, diciamo, tilt top 7 face down e le mettiamo, vai, le lasciamo qua, che sono quelle che sono sotto qui, no? Quindi, quando rivelata, cerca nel mazzo incontri per una coppia di Prison Cell, rivela e raggiunge all'area di allestimento, quindi cattura due carte addizionali della top del tuo mazzo incontri sotto quella coppia della prigione. Quindi, questa è la prigione, devo catturare di fatto 3, quindi facciamo... Ok, le mettiamo qua sotto, vediamo se così funziona, perfetto, sotto la prigione. Ok, quindi qui l'abbiamo fatto. Ogni volta che dobbiamo piazzare progresso qua, salviamo un numero uguale di carte catturata random da sotto qui, se non ci sono carte catturate, avanziamo allo stadio 3. Ok, quindi vuol dire in realtà che possiamo partire, giusto? Quindi iniziamo partendo. Allora, non è che posso fare granché, l'unica cosa che posso fare, che faccio subito, è il coraggio inaspettato su Arwen e poi andremo in impresa. Quindi entriamo nella fase dell'impresa, andiamo con Arwen e come azione andiamo a stappare Arwen e vediamo che carta ci viene fuori. Ci viene fuori il Goblin Tormentor. Cattura 1, X è il numero di carte in gioco con una o più carte catturate sotto di S. Quindi qua devo andare su Pairdeck 2. Ok. Ne diamo una sotto. Ne diamo una al nostro amico Tormentor. Ok. A questo punto noi stiamo andando in 3 contro 3, non ci sono progress. Ma noi decidiamo di viaggiare verso la Prison Cell. Dopo che viaggiamo verso la Prison Cell, guardiamo alla top delle... Diciamo, guardiamo le carte e ne scegliamo una da mettere in gioco. Quindi viaggiamo verso questa e andiamo a vedere quelle che sono le carte. Due Gandalf e una spada di Numenor. Allora, dobbiamo scegliere una da mettere in gioco. Dobbiamo sceglierne una da mettere in gioco. E mettiamo le altre qua sotto. Beh, allora potremmo andare... La spada di Numenor non ce ne facciamo niente. Potrebbe fare entrare Gandalf. Gandalf entra in gioco e di conseguenza potrebbe andare a fare 4 danni al Tormentor. Così lo facciamo fuori. Questo ci porta a prendere in mano la figlia del Nimrodel. Ok. Quindi direi che possiamo andare nel prossimo turno. Gandalf alla fine del turno viene scartato. Ovviamente Gandalf non ha fatto granché, ma... Sì, potevo farmi diminuire la minaccia in realtà. Potevo anche ingaggiarmi il Tormentor, pararlo con Arwen e poi attaccare con Gandalf. Vabbè. Ormai abbiamo fatto così, teniamo così. Ok, non posso fare niente con le carte che ho in mano. A questo punto io direi che come prima vado l'impresa con Arwen e la stappo. Andiamo a rivelare una carta. Queste sono così, ma non è un gran problema. Fermate l'esecuzione. Stop the executioners. Cattura 5, tempo 4. Quindi tempo 4 è qui. Cattura 5, facciamolo subito. Quindi facciamo più player 1. Player 2, deck 2. Cattura, abbiamo detto, 5. Quindi deal 5 face down qua. Le mettiamo qua sotto. Perfetto. Tempo 4, forse, quando l'ultimo time counter è rimasto da questa quest, scarta le sue carte catturate e remuovi questa quest dal gioco. Quindi aumenta la minaccia di 3 per ognuno dei personaggi che è stato scartato in questo modo. Ok. Quindi è un 3 contro 0 perché non ci sono segnalini, non ci sono, non c'è minaccia in area dell'estimento e quindi esploro di 3 la cella e quindi mi riprendo in mano Gandalf. Quindi la cella è esplorata, mi riprendo in mano Gandalf e la spada di Númenor. Ok. Alla fine del turno questa scendeva a 3. Perché per la parola, per la, la keyword, ehm, tempo. Allora, non è che posso fare granché, quindi potrei anche scartare carte per ottenere cose, magari forse mi conviene per dopo. Sì, diciamo che scarto una runa di Dairon per dare una risorsa ad Aruen, vado all'impresa con Aruen e la stappo. Andrò su questa qui. Ok. Rivela una carta che sono i tunnel di Montegram. Cattura 1, X è il numero totale di carte catturate sotto i tunnel di Montegram. Ok, quindi cattura 1, dobbiamo rifare questa solita cosa che è un po' scomoda, devo dire. Quindi, ehm, andiamo a metterne una sotto i tunnel di Montegram. Ok. Questo ci porta a vincere di due Progress, quindi ne possiamo mettere due qui. Andiamo, direi, a viaggiare verso i tunnel di Montegram. Anche se, sì, dopo dovremo giocare Gandalf, per forza. Andiamo a viaggiare verso i tunnel di Montegram. E quindi, alla fine del turno, qua, ci sarà un perdo il tempo, insomma. Segnalino tempo. Ok. Allora, io direi, con 5 risorse andiamo a giocare Gandalf. Gandalf ci fa scendere la minaccia di 5. Perché pescare non è che mi serva granché. Oddio, potrei pescare i consigli di aero, una luce elfica, queste cose qua. La minaccia è ancora bassa. E che questo qua mi fa paura perché ho paura che poi la nostra minaccia ci salga parecchio. E non è che sono così certo di farcela, eh. Questa. Quindi. Scelta interessante. Pescare 3 magari mi dai consigli di aero. Dai, peschiamo 3. 1, 2 e 3. Va bene. Un consiglio di aero. Quindi andiamo in impresa con tutti. Andiamo sempre su Stop the Executioners. Riveliamo una carta che è... Quando rivelata ogni giocatore scarta la top card del suo mazzo e aumenta la sua minaccia del costo stampato di quella. Ok. Quindi devo andare a prendere la top card del mio secondo mazzo e scartarla. Vediamo che cos'è. È la West Road Traveler. Quindi devo aumentare la mia minaccia di 2. 1, 2. Ok. Questo significa che sto vincendo di 7. Che sono 4 qui e 3 qui. Ma quello che io faccio è... Diciamo, dopo l'allestimento, prima della risoluzione dell'impresa, gioco il consiglio di aero. Per dare più 1 da Gandalf e farmi abbassare la minaccia di 3. Questo mi porta a vincere di 8. Che sono 4 qui. E quindi questa me la riprendo in mano. Che è l'inseguitore del Nord. E questa se ne va. E poi anche 4 qui. Quindi in realtà tutte queste qui mi ritornano in mano. E questa cosa va nel victory display. Proprio preciso, preciso. Quindi vediamo un po' cosa ci aspettiamo. Ok. Un po' di alleati. Qui sarebbe stato un po' drammatico se avessi perso tutti questi alleati, a dir la verità. Ok. Quindi alla fine del round Gandalf se ne va. Possiamo entrare nel prossimo turno. Bene. Vediamo che è arrivata la luce elfica. Quindi scarto la luce elfica per ottenere una risorsa. Quella risorsa, quelle due risorse le uso per la handmaiden. E quindi la mia minaccia scende di 1. A questo punto andiamo sull'impresa principale, stappando Arwen. Quindi 5, riveliamo una carta che ogni giocatore sceglie uno dei suoi alleati e lo cattura sotto la carta incontro con la minaccia più alta. Ora non ci sono carte incontro e quindi di fatto questa carta va a wifare perché non ci sono carte incontro e quindi non posso catturare un alleato sotto di essa. Questo fa sì che io vado a mettere 5 progress sui dungeon e devo quindi prendere 5 di queste carte casuali. Per cui andiamo a prenderne 1, 2, 3, che sono 1, 2, 3, facciamo questa, 4 e 5 per esempio. Andiamo a vedere cosa succede. No, non ci entra. Uno è Gandalf e l'altro è Albarad. Bene, il fatto di avere Albarad ci aiuta un po'. Perfetto. Quindi a questo punto possiamo semplicemente andare nel prossimo turno. Ok. Allora, io direi con una di Albarad andiamo a giocare al Messaggero. E va molto bene. E poi in realtà potremmo fermarci qui. Sì. Potremmo anche esaurire il Messaggero per spostare la risorsa da Arwen ad Albarad per avere lo sneak attack eventuale che magari dopo ci serve. Così dopo abbiamo anche il coraggio inaspettato e iniziamo un po' ad andare. Ora, io non vorrei proseguire, per cui andrei solo con... Allora, in realtà non vado con nessuno. Perché? Perché ho paura di proseguire. Non voglio proseguire. Per cui vado, non vado in impresa con niente e rivelo una carta che è il Goblin, il Torturatore Crudele. Cattura uno. Quando il Torturatore Crudele deve prendere un danno da un... No, quando dovrebbe fare danni a un alleato, cattura invece quell'alleato. Ok. Quindi in realtà io sto perdendo di due in questo momento. Sto perdendo di due, c'è un cattura uno, per cui facciamo subito il cattura uno. Qui. Qua. Ok. Allora, lui se me lo prendo poi ce ne vogliono cinque ad ammazzarlo. Quindi non è semplicissimo. Due, quattro, tre, quattro. Perché se anche gioco il Ranger di Cardolan, due, quattro, cinque, giusto? Se paro con Arwen, due, quattro, sei. Però, insomma, non mi sembra molto ortodossa come cosa. Se invece io paro con Gandalf, due, tre, non è sufficiente. Se paro con Albarad e poi ho Gandalf e pesco tre carte. Sto pensando se usare lo Sneak Attack per farlo fuori, fondamentalmente. E lo facciamo. Quindi direi, prima della risoluzione dell'impresa, uso una risorsa di Albarad, gioco lo Sneak Attack, metto dentro Gandalf. Gandalf fa quattro danni a lui. Potrei anche, che so, farmi scendere la minaccia. Poi me lo ingaggio, lo paro con Albarad e lo faccio fuori con tutti gli altri. Anche quella è un'opzione. Così mi vado a far scendere la minaccia di cinque, però di due perché perdo l'impresa. No, facciamo che lo faccio fuori, dai. Cosa più semplice di tutto. E peschiamo una carta che è Enamart. Ok, quindi l'impresa zero con zero. Alla fine della fase di impresa Gandalf mi ritorna in mano. Entriamo nel prossimo turno. Bene, allora, io direi con l'abilità di Arwen andiamo a scartare una carta che è le rune di Dairon e otteniamo una risorsa. Con l'abilità dell'Eran Rider spostiamo una risorsa da Arwen a Albarad. Con le due di Albarad andiamo a giocare il sovraintendente di Gondor su Arwen che attiviamo subito. Quindi con le due di Arwen andiamo a giocare la viaggiatrice della via dell'Ovest. Direi che anche qui, oddio, carte ne abbiamo. Possiamo darci un altro turno? Facciamo un altro turno in cui non vado in impresa e rivelo una carta, che sono i tunnel di Montegram. Quindi perdo di uno, devo dare una carta, me la metto sotto il tunnel di Montegram. Quindi metto una carta che è qui, viaggio verso il tunnel di Montegram e poi vado nel turno successivo. Ok, allora a questo punto con l'E4 di Arwen io posso andare a giocare un inseguitore del Nord. 2, 3, 4. Con l'abilità di Arwen scarto una luce elfica e ottengo una risorsa. Con questa risorsa cosa posso fare? Niente, in realtà vado in impresa con Arwen e tutte le questatrici. Mi tengo dietro tutto il resto perché magari mi può servire. Quindi sto andando solo con 7 in realtà. Riveliamo una carta che è la Patrol Room, cattura 2, ogni giocatore aumenta la sua minaccia di 3 per viaggiare qui. Quindi, View, Player 1, Player 2 Deck, cattura 2, ben detto, sì. Quindi, Deal 2, Face Down, ok. Quindi andavo a 7 contro 3, vinco di 4, è esplorata il tunnel di Montegram. Essendo esplorata il tunnel di Montegram, mi riprende in mano la figlia del Nimrodel. Io da questa Patrol Room non ci viaggio perché poi la blasterò con il Norden Trekker il turno dopo. Per cui andiamo semplicemente nel prossimo turno. Abbiamo il sovraintendente di Gondor, abbiamo un Gandalf. Potrei andare a giocare con 4 di Arwen, di cui non ho ancora usato l'abilità, un Ranger di Cardolan. Così aumentiamo la nostra presenza sul board. Ho sempre il consiglio di Arwen. Da questo punto andiamo all'impresa con il Norden Trekker e le questatrici e basta. Questo fa sì che metto un segnalino progresso sulla Patrol Room. Sto andando con 5, vincendo di 2. C'è una Prison Cell. Cattura 1. Quindi View, Player 1, Player 1 Deck. Deal, Top, Face Down. 1 da mettere sulla cella. Questo fa sì che io 5 contro 4. Come è andata bene, vinco di 1. Quindi vado a prendere solo 1. Prendiamo questa qui e vediamo che cos'è. Va bene, l'Arcere di Bosco Verde. Close and Keep Order. Ok. Decido di viaggiare verso la cella e posso andare a mettere in gioco gratuitamente questo. Che è l'Erebor Hammersmith. Che quando entra in gioco mi può far riprendere un attachment che non c'è. Perché la cella dice, dopo che il giocatore non è viaggiato verso la cella, guarda alle carte catturate sotto di esse e sceglie un alleato da mettere in gioco a nessun costo. Ok. Possiamo quindi andare nel prossimo turno. Attiviamo il sovraintendente di Gondor. Abbiamo l'Arcere, la Greenwood Archer. Che giochiamo, così incrementiamo la nostra... Ma no, potremmo farlo dopo. Potremmo farlo dopo con Beravor, ma tanto ho 9 carte in mano, non è che ho grande utilità. Facciamo così. Usiamo 2 e andiamo a giocare la guida del Knight. A questo punto io penso che può essere maturo il proseguire. Sì, facciamo così. Pago una risorsa di Arwen per pescare la luce elfica, una carta. Avere comunque i due consigli di Arwen che possono tornarci utili. E poi con l'abilità di Arwen scarto una carta che potrebbe essere appunto di nuovo la luce elfica per darle una risorsa. Andiamo in impresa con Norden Tracker. Le due Galadresen Maiden. La Knight Guide dice che andrà in impresa senza tapparsi Albarad. Quindi andrà in impresa. E poi Arwen che andremo a stappare con il coraggio inaspettato. Quindi sto mettendo un 7. Ma soprattutto vado a liberare la Patrol Room. Questo fa sì che andiamo a riprendere in mano. Vedete che tra l'altro c'è dentro pure il sideboard. Per quello che ho così tante carte. Però vabbè, fa niente. Insomma. Diciamo che questa avventura non è particolarmente difficile. E diventa interessante in modalità campagna. E invece in modalità così giocatore singolo non è particolarmente difficile. Quindi anche un mazzo non troppo ottimizzato va bene di fatto. Ok. Sto andando con 10. Riveliamo una carta che è la Dungeon Guard. Cattura 1. Quindi facciamo subito la cattura. Andiamo a prendere una che è quella catturata. La diamo sotto la Dungeon Guard. Ok. Dopo che le carte catturate sotto la Dungeon Guard sono salvate. Il giocatore può mettere una in gioco senza nessun costo. Quindi sono 9 progress. 9 progress sono 3 qui e 6 qui. Che vuol dire che vado a liberare questa. Che è Beravor. Eccola lì. Che è Beravor. E se non ci sono carte andiamo allo stadio 3A. Ok. Aggiungi Cancello Sud e Jailor Gornac all'area di allestimento. Quindi Jailor Gornac e Cancello Sud all'area di allestimento. Mischia il mazzo degli orchi di Hangmar nell'encounter deck. Che dovrebbero essere questi. Controlliamo. Sì, sono questi. Perfetto. Lo stiamo facendo. Quindi rivela una carta incontro per giocatore dal top del mazzo degli incontri. Quindi riveliamo una carta incontro per giocatore. Che tra l'altro è un altro Dungeon Guard. Quindi andiamo a dargli anche la sua carta. Adesso abbiamo un po' di nemici qui. Ok. Dove è che me l'ha presa qua? E quindi andiamo a dargli questa. Perfetto. A questo punto che cosa succede? Che non possiamo viaggiare verso il Cancello Sud se non ci sono 6 progress qui. I giocatori non possono sconfiggere questo stadio finché il Sounder Gate è in gioco. Se i giocatori sconfiggono questo stadio siamo fuggiti. Quindi non posso viaggiare qua a meno che no, devo avere 16 progress per viaggiare qua. Lui è a 44. Ok. Ogni volta che liberiamo una carta lui ci attacca e fa un un attacco immediato. ok. Ok. Va bene. Mi è chiaro. Mi è abbastanza chiaro. Ok. va bene. Qua possiamo fare un po' di cose. Allora. Dunque. Io mi ingaggio. Mi ingaggeranno questi due e me li faccio ingaggiare. ho il consiglio di Arron per giocarmelo ma secondo me è un board sufficientemente vasto per potermi fare ingaggiare questi. Siccome mi ingaggiano io pago uno e metto in gioco con una risorsa di di Arwen metto in gioco il Ranger di Cardolan che avevo visto. Ce n'erano due, no? Qua. Il Ramingo di Cardolan. Perfetto. A questo punto che cosa facciamo? Diamo le carte ombra. Giusto? Lui attacca a un tranquillissimo due per cui io direi che uno lo paro con le Rebo Rammer Smith. C'è un effetto ombra che dice più uno quindi due più uno se questo attacco li stuccia un alleato ritorna nell'area di allestimento. Quindi due più uno fa tre tre meno uno fa due e quindi non ci sono danni. Perfetto. Poi l'altro potrei parlare con l'altro Ranger di Cardolan. Quindi lo paro con l'altro Ranger di Cardolan esaurisce un personaggio che controlli. Questo ci dà un po' fastidio andrò a esaurire la Night Guide. L'Eran Rider lo tengo come difensore diciamo. A questo punto tocca a me. Io che cosa faccio? Io vado a usare una risorsa di Albarad per giocare lo Sneak Attack e mettere dentro Gandalf. Gandalf mi entra in gioco e fa quattro danni diretti al Jailor. Ok. Sì. Poi io voglio fare fuori uno quindi mi basta un tre per far fuori questo qui. no? Due, quattro e poi due, sei sei meno tre fa tre con Arwen ce la facciamo. Ok. Quindi tocca a me attaccare io attacco con Albarad due con Ramingo di Cardolan quattro quattro meno uno fa tre per cui la Dungeon Guard è sconfitta e mi fa rimettere in gioco gratuitamente mi fa entrare in gioco gratuitamente la Night Guide. No? Perché dice dopo che le carte catturate sono salvate il giocatore può mettere in gioco una a nessun costo. Per cui siccome questo è salvato Gornac arriva e mi fa un attacco mi ingaggia e mi fa un attacco io questo attacco lo paro con le Run Rider quindi lui mi attacca a cinque cioè non c'è effetto ombra cinque contro zero gli fa cinque danni e le Run Rider è sconfitto. Ma a questo punto tocca a me attaccare io attaccherò con uno tre sette otto otto meno tre fa cinque e quindi metto nel Victor Display il Jailor Gornac. Ok alla fine la fase di combattimento Gandalf mi ritorna in mano e alla fine del turno il Ranger di Cardolan viene rimescolato e quindi possiamo andare nel prossimo turno. Ok a questo punto abbiamo anche pescato Beravor con la risorsa di Beravor andiamo a giocare Enamart e vediamo cosa ci aspetta così facciamo tutti i conti va bene è la Patrol Room che non ci interessa quindi se noi riusciamo a parare lui e poi a farlo fuori tutto il resto possiamo mandare in impresa quindi lui lo possiamo parare con Albarad che andrà tra l'altro in impresa gratuitamente poi per farlo fuori ci basta un tre che potrebbe essere la Night Guide e Beravor no facciamo Arwen e Beravor ok quindi a questo punto aumentiamo il nostro board per aumentare il nostro board paghiamo tre di Arwen e mettiamo giù le Red Lui Nine Miner non è granché ma va bene quindi andiamo in impresa con Arwen il tracker Albarad che si fa gratuitamente le due questatrici noi abbiamo un tre più tre e sei non credo che ce la facciamo andiamo anche con un Ranger andiamo con tutti loro guarda così e stappiamo Arwen e sto andando con quindici per cui non ce la faccio in nessun modo ok quindi riveliamo una carta che è la Patrol Room e catturo due quindi view no view layer uno deck cattura due ok le mettiamo qua sotto ok vinciamo di nove che sono nove ma gioco i due consigli di Arrond per cui la mia minaccia scendeva a dodici anche se serve a poco in realtà e metto su due progress in più ok close and keep order va bene andiamo nella fase di combattimento non viaggio da nessuna parte gli diamo la carta ombra pariamo con Albarad esaurisce un personaggio che controlli che è l'Ared Lune Miner e poi lui lo attacchiamo con Arwen e Beravor 1 più 2 3 3-1 fa 2 quindi andiamo a salvare un Erebor Hammersmith che possiamo mettere gratuitamente tra l'altro possiamo mettere uno di questi a nessun costo ok quindi andiamo a vedere con Enamart cosa ci aspetta quindi niente allora a questo punto andremo con il tracker perché io voglio mettere 16 progress qui no questo qui no perché è immune quindi 6 ne mancano 5 devo andare con 11 quindi andiamo così quanto sto andando sto andando con 8 facciamo 9 10 e 11 ok chiaramente qui ho messo un po' l'autopilot cioè nel senso stiamo andando velocemente quindi non vedo gioco la spada di Numenor su su Beravor per darle più 1 potrei anche usare tutte le varie luci elfiche per pescare carte ma insomma nel mazzo non c'è granché quindi andiamo così riveliamo una carta che ci dice dobbiamo scartare la top del mazzo che è questa e aumentare la minaccia di 1 perché le run rider vale 1 ok questo ci fa vincere di 5 quindi andiamo a mettere 16 progress qui ok possiamo viaggiare verso il southern gate viaggiando verso il southern gate la minaccia va a 35 la minaccia va a 35 partita via la minaccia ok e possiamo andare nel prossimo turno prima di ciò con Beravor vado a pescare due carte anche se non serve a niente e andiamo nel prossimo turno a questo punto andiamo a vedere con Enamart che cosa ci aspetta è un altro luogo che è la prison cell a me basta mettere 8 progress qui e abbiamo vinto sostanzialmente quindi andremo con Norden Tracker per far fuori questa e riprendere in mano queste due carte ok e poi mi basta mettere 8 più 1 9 sostanzialmente quindi possiamo andare con Arwen possiamo andare con la Landmaiden con tutti loro stiamo mettendo 14 riveliamo un luogo di cui dobbiamo catturare la carta qua sotto a questo punto non cambia niente anche se la vedo perché non cambia niente vinco di 13 che sono 8 qui e 5 qui quindi noi non potremmo viaggiare verso il Soutergate a meno che non c'erano 16 progress e c'erano 16 progress abbiamo viaggiato verso il Soutergate abbiamo tirato su la minaccia a 35 ogni nemico orco prendeva più 2 abbiamo esplorato il Soutergate per cui questo significa che andiamo a chiudere la partita in 13 turni con 139 punti ecco come ho detto anche nella modalità campagna questo non è uno scenario particolarmente difficile soprattutto con un mazzo ben performante come questo ma vabbè l'abbiamo fatto nella nostra progression è molto più divertente in multiplayer veramente ben fatto in campagna come avete visto come vi lascio il link alla fine di questo video se vi piace il canale considerate l'idea di iscrivervi che è un modo per farlo crescere io vi ringrazio ciao alla prossima